salve a tutti i ragazzi vicini e lontani oggi non vi annoierò con un progetto ma è un velocissimo video solo semplicemente per farvi gli auguri di buon ferragosto e in particolar modo tutti quelli che per forza di cose oggi devono lavorare non vi preoccupate ci saranno tanti altri ferragosti da festeggiare un giorno come un altro diciamo così segna il culmine dell'estate ma sta per simboleggiare diciamo anche la fine dell'estate ci avviciniamo alla fine dell'estate ma non ci preoccupiamo pensiamo a godercela e niente ci rivediamo fra pochissimo con altri video continuate a seguirmi e iscrivetevi mentre state sotto l'ombrellone buon ferragosto a tutti